Comincerà a Roma un festival? Stasera inizia un festival a cui partecipo nella giornata di oggi, che si chiama Cinema d'Idea. È un festival molto particolare, che è stato ideato da Patrizia Fregonese. Ed è un festival di cinema, ma in realtà di tutte le arti, dedicato alle donne. Perché in realtà è vero che le donne non hanno le stesse possibilità degli uomini. Quando lo si chiede agli uomini, o comunque anche ad alcune donne, tutti tendono a dire ma no, non è vero, non è vero, non è vero. Perché in realtà non c'è la volontà, secondo me, di volerci danneggiare. Però è come se ci fosse una sorta di retaggio culturale di cui ancora non ci siamo liberati. Per cui per certe figure professionali, come per esempio per la regia, le donne hanno meno possibilità degli uomini. E c'è poco da fare, è così. Perché, ripeto, secondo me non c'è consapevolezza in questo, ma c'è un retaggio culturale che però poi porta a preferire gli uomini in certe figure professionali che non le donne. Quindi è sempre importante ricordare invece le donne, soprattutto importanti, che ci sono state nel nostro passato cinematografico. Pensiamo alla Wirtmuller, alla Cavani, anche adesso alla Comencini, Archibugi. Però sono quattro o poco di più e non c'è, nel senso bisogna soffermarsi a pensare a questo e quindi iniziative piccole come questa, ma che poi io spero possano crescere, ci facciano un attimo soffermare a pensare a questa cosa. Che è bello anche proprio questo. È giusto che, quello che tu dici, che è partita, diciamo, la rivoluzione, tra virgolette, della, come si dice, la rivolta, se vogliamo, la rivolta sempre tra virgolette delle donne è partita con questo movimento Me Too, no? Sì. Però è giusto che non si fermi là, perché il problema è proprio quello. Magari, sai, c'è stato questo periodo in cui c'è stata la giusta, la sacrosanta rivolta delle donne e poi del cinema, dello spettacolo, ma comunque più in generale di tutto, e poi magari è così ferma lì. Invece è giusto che ci siano anche altre manifestazioni che portino avanti questo discorso. Certo, assolutamente. Perché il processo di crescita è anche proprio come dici tu. Esatto. Nel senso, è giusto che vadano avanti anche nei festival in divenire, diciamo. Assolutamente sì. Assolutamente sì.